Lo avevamo già fatto all'inizio del mese scorso e ci ritorniamo anche ora. Parliamo del guasto alla condotta idrica lungo via Mende e le vie Zaccagnini a Favara, lamentato dagli stessi abitanti del posto. Le immagini che state vedendo sono state inviate alla nostra redazione tramite Sicilia TV Reporter dal cittadino Giovanni Campione. Dalle stesse si può vedere come, in alcuni punti, l'asfalto del manto stradale risulti bagnato, probabilmente proprio a causa di un guasto che fa sì che l'acqua, anziché entrare nei serbatoi delle abitazioni, si perda per strada. Già nel mese di febbraio la perdita d'acqua sul posto c'era stata segnalata dal cittadino Giuseppe Piscopo, abitante della zona, che allora precisava come da tempo persiste il problema e che da anni lo si segnala a girgenti acque. Nei giorni successivi la società ci aveva comunicato dell'intenzione di effettuare dei sopralluoghi e relativi interventi, ma, come detto, ad oggi il problema persiste. Per il cittadino Giovanni Campione nessun intervento è stato effettuato fino ad ora e nessuna programmazione è stata prevista dalla società Girgenti Acque. Ho anche telefonato il responsabile di zona, ci riferisce Campione, senza averne avuto risposta. Insomma, quello percepito dalla popolazione è un sentimento di indignazione, di delusione e di rammarico per lo spreco di litri e litri di acqua, che periodicamente si disperdono nelle vie Zaccagnini e Mendel. I cittadini si sono rivolti alla nostra redazione per avere una voce in merito alla vicenda, per cercare di smuovere le acque. L'appello degli abitanti del posto è dunque rivolto a Girgenti Acque, al fine di constatare quale sia il problema e di intervenire per risolverlo. Anche in questo vogliamo sperare che l'ente gestore del servizio idrico integrato interverrà con una certa tempestività, visto che il problema è stato segnalato più volte già da diverso tempo.